Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi commentiamo l'amichevole, l'ultimo test match della Juventus prima di Udinese Juventus La prima partita della nuova stagione, il primo match di campionato Quindi siamo entrati ormai nella settimana che ci accompagnerà al ritorno della Serie A Al ritorno dei nostri beniamini in campo Quindi ragazzi ormai ci siamo, ormai siamo pronti, ormai stiamo cominciando già a respirare quell'area da campionato, quell'area da Serie A Però parliamo un attimo di Juventus-Atalanta, l'ultimo test match dei bianconeri, si gioca a Cesena In uno stadio comunque gremito, meraviglioso, uno stadio che dovrebbe secondo me ritrovare la Serie A Perché è veramente il Dino Manuzzi uno spettacolo sinceramente Quindi auguro al Cesena, al Dino Manuzzi di ritornare in Serie A Comunque Juventus-Atalanta si affronta in uno match che veramente sa di Serie A Quindi due squadre in rodaggio, due squadre che ancora si devono comunque codiuvare Devono comunque ancora trovare dei automatismi, dei meccanismi giusti Perché comunque anche l'Atalanta ha cambiato alcuni giocatori La Juventus, anche se ha acquistato solo UEA Per il momento ha comunque dei nuovi innesti, delle nuove sinergie da andare a creare Quindi una Juventus e un'Atalanta che entrambe erano comunque ancora un po' imballate Che erano un attimino ancora in rodaggio Però non si feriscono le due squadre, il match finisce 0-0 Un po' mi dispiace per quel meraviglioso pubblico che c'era Perché comunque quella gente meritava di vedere qualche gol Però le azioni ci sono state, una Juventus che comunque ha fatto una buona gara secondo me Specialmente nel primo tempo contro un'Atalanta che mi sarebbe aspettato un attimino più avanti Nella preparazione e nelle sinergie varie Specialmente nella fase di prima impostazione Perché l'Atalanta era un attimino più in difficoltà nel primo palleggio E invece una Juventus che secondo me nel primo tempo ha fatto vedere delle cose molto molto interessanti Abbiamo rivisto quello che abbiamo visto per esempio contro il Real Madrid E anche contro il Milan per alcuni tratti del match Ossia un Chiesa che partiva a seconda punta Ma che la maggior parte delle volte il maggior numero di palloni giocati L'ha giocati sulla sinistra Quindi un po' in posizione di ala Come in quelle occasioni abbiamo ritrovato però come esterno di centrocampo Cambiaso che aveva fatto la sua apparizione contro il Milan dal primo minuto E anche in questo caso e anche in quel caso lì abbiamo visto delle sinergie molto simili Con un cambiaso che veniva molto dentro al campo Quindi una specie di mezzala sinistra in appoggio comunque alla vera mezzala sinistra Che in questa occasione è stato Rabiot Che ha ritrovato comunque il minutaggio Ha messo da parte 45 minuti in attesa proprio di Udinese e Juventus Però molto interessante la riproposizione di quello che avevamo visto contro il Milan Una cosa che comunque aveva funzionato in alcuni aspetti contro i rossoneri L'abbiamo ritrovata con Chiesa che partiva a largo a sinistra Molto spesso appunto all'uomo per creare poi dopo l'occasione da seconda punta vera e propria Con Vlaovic che veniva accompagnato Veniva aiutato dalle due mezziali Miretti e Rabiot Nell'occasione appunto del match contro l'Atalanta di ieri E invece Cambiaso che si spostava un po' più centrale Un po' più di accompagnamento Un po' più come un terzino che veniva appunto a giocare Che viene a giocare in mezzo al campo Un po' una riproposizione di quello che spesso ha fatto vedere il Napoli e il Milan Nel corso appunto di queste ultime due stagioni Con i loro terzini sinistri Specialmente i loro terzini sinistri Mario Rui, Ette e Hernandez nello specifico Che venivano appunto a giocare dentro al campo Nel Napoli l'abbiamo visto anche fare a Di Lorenzo Per esempio questo tipo di movimento Mentre invece nel Milan Questo compito è affidato molto più spesso a Teo Hernandez Rispetto che a Calabria Insomma una Juventus che prova a copiare qualche concetto Che ha funzionato negli ultimi anni dalle altre parti Per poterlo appunto riproporre In salsa bianconera Con appunto gli interpreti bianconeri In questa stagione Quindi una Juventus che comunque cerca un pochettino di evolversi Cerca un attimino di fare qualcosa di diverso Rispetto a quello degli ultimi anni Quello che abbiamo visto negli ultimi anni Insomma una Juventus che ha fatto vedere qualcosa di diverso Un po' di pressing alto lo abbiamo visto Una Juventus che ha messo in difficoltà La fase di primo possesso dell'Atalanta Infatti mi aspettavo i Bergamaschi un po' più sciolti Un pochettino più capaci di trovare l'imbocata giusta Trovare comunque il centrocampista nella maniera giusta Proprio partendo dalla fase di impostazione data ai difensori Quindi mi aspettavo un'Atalanta un attimino più veloce Nella fase di prima impostazione Di primo possesso Invece una Juventus me l'aspettavo un pochettino più In fase difensiva Invece con gioia devo constatare Una Juventus che specialmente nel primo tempo È stata molto alta in pressing Una Juventus che è andata a prendere uomo su uomo I difendenti dell'Atalanta Creando comunque degli scompigli ai Bergamaschi Insomma una Juventus che ha fatto vedere delle cose interessanti Secondo me Timothy Weah Ha fatto vedere ancora una volta Di essere un giocatore molto molto sottovalutato In fase di mercato Quando la Juventus ha acquistato Weah Non tutti hanno comunque elogiato questo colpo Io invece continuo a pensare Che questo ragazzo sia veramente Un acquisto sorprendente Da parte della Juventus Passerà in sordina È passato in sordina Ma sarà veramente un giocatore decisivo Nel corso della stagione bianconina Perché ha veramente le skill Del grande giocatore Lì sull'esterno ha Grande capacità di corsa Grande capacità di sovrapposizione È comunque un ragazzo Che spesso e volentieri Va a concludere l'azione Quando per esempio Abbiamo attaccato la sinistra Lui spesso e volentieri Si accentrà Per andare a concludere l'azione Come ha fatto per esempio Nell'occasione del 2-0 Contro il Real Madrid Quindi un'occasione molto simile L'abbiamo vista Anche contro l'Atalanta Con un cambiaso Che trova dalla sinistra Chiesa Chiesa riesce a crossare Per Vlaovic Il tiro di Vlaovic Viene rimpallato Ma chi c'è a dare una mano a Vlaovic C'è proprio Timothy Weah Che va a calciare di sinistro Con grande parata di musso Quindi abbiamo visto un Weah Che comunque Va a confermare Gli aspetti positivi Che avevamo già ravvisato Nei match contro il Milan Contro il Real Madrid Quindi comunque Contro avversari importanti Un Weah Che viene in mezzo al campo A concludere l'azione Quando l'azione parte da sinistra Ma quando per esempio Attaccavamo sulla destra Abbiamo visto un Weah Che ha veramente Una grande progressione Una grande capacità di corsa Quindi un ragazzo Che potrebbe veramente Risultare decisivo Nella prima impostazione E anche Nella appunto Nell'attacco Quando attacchiamo appunto Dalla destra Quindi è un ragazzo Che secondo me Ha delle skill Molto interessanti Quindi spero veramente Che possiamo già Ritrovarlo In questa forma O anche meglio Nel match contro L'ordinese Insomma un Weah Che per certi versi È stato comunque Straripante Lì sulla destra Non riuscivano A contenerlo Quindi molto molto bene Anche molto tecnico Il ragazzo Perché spesso e volentieri Quando era pressato Riusciva di prima A trovare comunque Il centrocampista O addirittura L'attaccante Che veniva a rimorchio Con un Chiesa Che parte esterno E un Cambiaso Invece molto più Centrale Come un vero e proprio Terzino Che viene a giocare Dentro al campo Quindi lui ha anche Dalla sua comunque Una discreta tecnica Di base È un ragazzo Molto molto tecnico Ha molte Capacità Per quanto riguarda La corsa Quindi è un ragazzo Che corre tanto E poi in fase difensiva È sicuramente Un ragazzo Molto più attento Alla difesa Rispetto a Kostic Quindi attenzione Perché ripeto Contro l'ordinese Potrebbe esserci La sorpresa Di Cambiaso Dal primo minuto Abbiamo rivisto Rabiot Però dubito Che Rabiot Partirà titolare Contro l'ordinese Perché l'abbiamo visto Ancora un po' Un attimino Un po' In ritardo di condizione Questa è la prima volta In camera a minuti Solo 45 minuti Per lui Quindi attenzione Perché magari Rabiot potrebbe Non partire Titolare nel match Contro l'ordinese Perché l'ho visto Leggermente in ritardo Rispetto agli altri Invece ho visto Molto bene Miretti Un giocatore Molto tecnico Mi dispiacerebbe Vederlo magari Partente In prestito Oppure a titolo definitivo Soprattutto a titolo definitivo Perché Miretti è un ragazzo Che secondo me Ha delle qualità Molto importanti E poi mi sembra Anche avanti Rispetto agli altri Colleghi di reparto Per quanto riguarda Proprio la gestione fisica Le condizioni atletica Mi sembra avanti Questo ragazzo Quindi ancora una volta Ha provato A tirare in porta Come l'abbiamo visto Fare nel match Contro la next gen Ha tirato in porta Un paio di volte Proprio perché vuole Sbloccarsi Vuole trovare La rete E quindi attenzione Perché in proiezione Udinese Magari potremmo vedere Mekenni Che è stato a riposo Oggi Come mezzo alla destra E Miretti Confermato Mezzo alla sinistra Proprio perché Rabbio non l'ho visto Completamente in palla Però Magari Allegri Ci sorprenderà E magari Sarà proprio Mekenni O lo stesso Mekenni A partire dalla panchina Con Rabbio Titolare Quindi staremo a vedere Interessanti Anche in questo caso Le scelte che farà Allegri In proiezione Appunto Del primo match Di campionato E poi Il trio difensivo Abbiamo visto Un trio difensivo Il trio brasiliano Danilo Bremer Con Alexandro Molto interessante Perché abbiamo visto I tre giocatori Molto alti Nell'andare a prendere Gli attaccanti Della Atalanta L'Atalanta che giocava Con un 3-5-2 Nel primo tempo E poi è passato Da un attacco Più a tre Con Pasalic Insieme a Touré E Scamacca E quindi Un'Atalanta che Nell'attacco a due Ha trovato delle difficoltà Nell'impensierire La retroguardia Bianconera Proprio perché I tre difensori Della Juventus Erano molto alti Molto offensivi E comunque Hanno creato Dei grattacapi Agli attaccanti E anche ai centrocampisti Della Atalanta Quindi una Juventus Che comunque è stata Alta impressione Quello che ho visto Un po' attimino Ripeto Un po' più impacciato Ma lì perché Secondo me Il ragazzo È in una fase calante Della carriera L'abbiamo mai constatato E Alexandro Alexandro mi preoccuperebbe Sinceramente In fase In proiezione Udinese Proprio perché L'ho visto ancora una volta Anche contro l'Atalanta Un po' troppo falloso Un po' troppo scordinato Un po' troppo anche Fuori posizione In alcuni frangenti Perché Ripeto Mi sembra comunque Un ragazzo Che ha già dato Il meglio Della carriera E quindi È in fase Prettamente calante Quindi potrebbe essere Un problema In proiezione Udinese Però purtroppo Dal mio punto di vista Credo che Allegri Rischiererà Questi tre Contro l'Udinese E magari ci sarà La sorpresa Gatti Che potrebbe sparigliare Un po' le carte Gatti che l'ho visto bene Anche in proiezione Offensiva A sovrapporsi All'esterno di centrocampo Che era in quella posizione Quindi una difensore Che comunque Sa attaccare Quindi magari Ci sarà Contro l'Udinese La sorpresa Di Gatti Con magari Danilo Messo a sinistra Quindi staremo a vedere Alcune carte ci sono Molto interessanti Che potrebbero Appunto essere Sorprendenti Per quanto riguarda La formazione Che vedremo Nella prima di campionato E poi il duo d'attacco Un po' più in ritardo Vlaovic Oggi Perché comunque Il test era un po' più probante Rispetto a quello Contro la next gen Naturalmente Però comunque Ho visto un Vlaovic Voioso Un Vlaovic Che ha calciato Un paio di volte Verso la porta Un Vlaovic Che comunque Sarò servito Anche nella fase Di possesso Quindi Vlaovic Che comunque Sta migliorando In questo fondamentale È venuto in contro Un paio di volte È stato capace È stato bravo Di girare il pallone Sulle esterne L'ho visto grintoso L'ho visto grintoso E l'ho visto bene Anche Federico Chiesa Che comunque Da questo punto di vista È un ragazzo Che non fa mai mancare L'apporto Molto tecnico Molto veloce Molto rapido Il suo cambio di direzione Sembra essere tornato Quello dei tempi Comunque d'oro Quindi Molto positivo Da questo punto di vista Un Juventus Che ha sofferto zero Contro l'Atalanta L'Atalanta non ha mai calciato In maniera pericolosa Verso la porta Tranne in una circostanza Con Touré Nel secondo tempo Invece la Juventus Ha creato Nei grattacapi All'Atalanta L'ha parata Di Musso Su Ea Nel primo tempo L'occasione Che ha avuto Nel secondo tempo Sulle Dove veramente La Juventus Era sfortunata Non ha trovato la rete Milik a giro Di sinistro Nel secondo tempo Che non ha trovato la porta Lo stesso Blavice Nel primo tempo Ha calciato un paio di volte Quindi La Juventus Si è sicuramente Resa più pericolosa Rispetto ai Bergamaschi Per quanto riguarda I ragazzi Che sono entrato dopo Voglioso Molto tecnico Anche lo stesso Nicolussi Gaviglia Mi è piaciuto tanto Quando è entrato Nel secondo tempo Nicolussi Mi sembra veramente Un ragazzo pronto Per vestire la maglia Bianco-nero Un po' più in ritardo Milik Però è chiaro Un giocatore Comunque della sua stazza Ha bisogno di più tempo Per carburare Un po' più in ritardo Anche Kostic E questo mi sorprende Un po' mi delude Perché Kostic Aveva già affrontato Una fase calante Di performance Lo scorso anno Nella fase appunto Finale del campionato Qui Mi sembra un po' più Di rivedere il Kostic Seconda parte Dello scorso anno Rispetto a un Kostic Prima parte Dove veramente Era un giocatore Stradipante E decisivo Quindi Speriamo che Kostic Si riprenda Come anche Speriamo di rivedere Iling Nella sua posizione naturale Perché nella posizione Di mezzala Veramente mi sembra Un giocatore castrato Iling Junior Che ancora una volta Fa la mezzala Di centrocampo A sinistra Però mi sembra veramente Un giocatore castrato In quella posizione Ebbene Hildiz Che un paio di volte Ha calciato In maniera anche potente Verso lo specchio Della Porta Un 2005 veramente Molto molto forte Che farà le fortune Della next gen In questa stagione Stessa cosa anche Huizen Stessa cosa anche Haza Comunque l'ho visto Molto voglioso Molto volenteroso Ragazzo molto Promettete Lui Campione del mondo Campione del mondo Comunque con la nazionale Under 19 Un ragazzo molto talentuoso Stessa cosa anche Huizen Un ragazzo che comunque In ogni situazione di gioco Riesce comunque sempre Ad avere la calma Dei forti Rugani Sempre uguale Rugani è quel giocatore Che fa sempre la stessa performance In ogni partita Un ragazzo molto Solido Da questo punto di vista E poi ovviamente Pinzoglio Che non deve fare Grandi miracoli Rispetto Alle precedenti apparizioni Però sicuramente È un terzo portiere Di lusso Da questo punto di vista Che ha cominciato bene La stagione Perin era in porta Perché non c'era appunto Scesni Ma lo stesso anche Mattia Perin Sicuramente Un dodicesimo Di grandissimo livello Non ha dovuto fare Grandi interventi Però anche Il modo in cui Ha gestito La comunicazione Con i difensori È comunque Un qualcosa Di molto importante Sicuramente Con l'utilizzo Vedremo Scesni In porta Che è semplicemente Riposato Nel match di oggi Però staremo a vedere Ragazzi Questo era il mio commento Su Juventus Atalanta 0 a 0 Adesso Addentriamoci In questa settimana Perché sarà molto interessante Cercare di Sviscerare Alcuni accompagnamenti Alcuni argomenti Proprio in prossimità Del match contro L'Udinese Però ragazzi Vi invito a dirmi la vostra Nello specifico Mettere like In questo video Se vi è piaciuto E dirmi la vostra Nei commenti Ciao a tutti Da Domenico Aversa Ciao a tutti raga